Ehi, sono Flavio, il nipol con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti faccio vedere qualche turno in una partita in singolo giocatore a paladini del regno occidentale. Ora, il singolo giocatore non differisce tantissimo da una partita con altri giocatori, ci sono un pochino di regole diverse, ma bene o male il feeling è quello. Andiamo a dare un'occhiata, se ho fatto qualche errore potrebbe anche essere, metterò delle notifiche a video, ma spero di non averne fatti. Se vuoi comunque puoi cliccare in alto o in descrizione per andare a vedere il mio video tutorial o il parere su questo gioco. Se sei ancora qui, andiamo a vedere le sberle che ci prendo da Ginko. Ed eccoci qui, pronto a farti vedere qualche turno a paladini del regno occidentale nella sua versione in singolo giocatore. Ora differisce un pochino dal gioco base con più giocatori, ma bene o male il feeling è lo stesso. Il rivale, che ha una sua plancia, che chiameremo Ginko, parte con già delle azioni migliorate, perché stiamo facendo una partita a livello medio, quindi normale, e lui svolge le sue azioni attraverso questo mazzo di carte. Non prende mai risorse, quindi né probbiste né monete dalle tasse, ma quando succede avanza il suo segnalino risorse. Essenzialmente il segnalino risorse gli dà un obiettivo, quali carte verdi prendere, quindi le carte cittadino, quali carte rosse che sono gli invasori, e in più ogni volta che torna indietro avanza una caratteristica. Se poi non può fare delle azioni perché può capitare, ha una priorità di azioni secondarie da fare. Lui ignora il colore dei lavoratori, e quindi gli daremo dei lavoratori casuali, e in più ogni volta che si scopre una richiesta del re, lui migliora quell'azione a cui è legata. In più in questi spazi azioni che verranno scoperti, su questi spazi azioni, c'è questa carta a favore del re che si andrà ad aggiungere alla sua pila degli scarti perché anche lui potrà sfruttare quelli spazi azioni. Probabilmente prenderei il guardiano. Sì, perché mi dà immediatamente una provvista, e in più mi dà una provvista ogni volta che ingaggio qualcuno, che non è male. Sì, prendiamo lui, e prendiamoci una provvista. Ora, il Ginko non prende queste carte, le ignora proprio, in questo momento comunque, in questa fase. Quindi facciamo scorrere le altre, e scopriamone un'altra. Ok, l'architette. Benissimo, allora io sarò sempre il primo giocatore. Innanzitutto andiamo a vedere che cosa richiede il re e richiede di fare l'azione presidiare come se non ci fosse un domani. E quindi andiamo a semplificare l'azione presidiare di Ginko. Ok, qui andiamo a scoprire delle carte. In una partita in singolo giocatore se ne scoprono solo due. Benissimo. Ginko non ottiene lavoratori nel modo regolare. Lui ottiene tre più il numero del round, quindi quattro in questo caso. Eccoli qua. E io invece scelgo una carta taverna. Se gli lascio una carta taverna con un lavoratore viola, lui prende sospetto. In questo caso no. Ma prima di scegliere quelle carte andiamo a vedere quali carte ho io. Allora, abbiamo Oliver che quando uso l'azione pregare non pago monete e mi dà quattro di fede. Ho Ivor che mi dà tre di influenza e uno di forza. Un lavoratore nero e uno blu, lui invece due neri. E quando uso l'azione assolvere non pago monete. E qui abbiamo Ivor che mi dà tre fede. Fede a pressione in questo round. Benissimo. Molto bene. Mi dà un verde e un nero e quando uso l'azione consacrare non pago provviste. Allora, probabilmente vado di Ivor. Lui lo metto in cima al mazzo e blu in fondo. Quindi tu vai in fondo e invece tu vai in cima. Ok. E quindi prendo un nero e un verde. Eccoli qui. E le mie statistiche sono aumentate. Tre fede e uno forza momentaneamente, quindi non le segno. E quando faccio l'azione consacrare non pago provviste. Ora, quali prendo? Penso che prenderò questi. Due blu e due bianchi e due bianchi. Ok. E vediamo cosa ne tiriamo fuori. Allora, se io faccio l'azione consacrare adesso e non pago provviste grazie a lui, ho tre di fede e posso arrivare qui. E mi prendo un ladoratore verde che mi servirà per dopo per fare l'azione fortificare. E mi prendo un punto di influenza. Ok. Va bene. Invece, tu, Ginkgo, cosa farai? Tu convertisci. Allora, lui quando converte, essenzialmente... No, è qua. Lui cerca di convertire la prima, che è questa qui. Ce la può fare tranquillamente perché richiede zero fede. Non si tutto mette due lavoratori in questa azione. Mira questa perché il tracciato delle risorse indica quella carta. E quindi ottiene due punti forza. Porca a posto. Fatta la tua azione. Molto bene. Ora tocca a me. Abbiamo detto che volevamo fortificare e vedere cosa succede. Oh, benissimo. Allora, devo spendere ovviamente una provvista, come indicato qui. Dopodiché prendo un punto forza. Ci lo segniamo subito. E poi ho un lavoratore bianco e un lavoratore rosso. Non poteva andare meglio. Benissimo. Allora, vediamo invece Ginkgo che cosa fa. Ginkgo attacca. Ok. Attacca questa carta. Non è disponibile e attacca la successiva. Ha bisogno di tre di forza. Attualmente lui ha due. Non può farlo. Ok, come vedi, ha due di forza. E quindi, cosa diavolo sto facendo? Fa l'azione ingaggiare. E quindi scarta la prima carta. E che cosa ottiene? Un lavoratore e una provvista. Non ottenendo provviste avanza il segnalino. Ecco qua. A posto. E questa è scartata. Ora tocca a me. Benissimo. Adesso che ho questi lavoratori, io potrei presidiare. Ho forza due e quindi posso arrivare al massimo lì. Qui. Potrei arruolare una carta gratuitamente oppure prendere monete perché dopo sarebbe carino fare l'azione sviluppare. Oppure c'è qualche carta che mi interessa arruolare e io quando arruolo qualcuno prendo provviste? Non è male. Sì, sfruttiamo la nostra abilità. Allora, mettiamo i lavoratori qui. Tac e tac. Benissimo. Paghiamo una provvista. La dobbiamo pagare. Questo lo andiamo a mettere qui. E mi vado a prendere una di queste carte. Diciamo che prendo l'accolito. o no? Che quando faccio l'azione consacrare mi dà un lavoratore. Perché l'idea di prendere monete dalle tasse non mi piace granché. Sì, prendo l'accolito e lo mettiamo qua insieme all'altra carta. Benissimo. Quando prendo una di queste carte ottengo anche una provvista. zip. Perfetto. Ah, e non scordiamoci di ottenere un punto di fede. Ok, tocca a Ginko che ha ancora dei lavoratori. Ne ha due. E cosa fa? Fa l'azione ingaggiare. Non la può fare perché è bloccata e quindi fa la successiva che è pregare. Quando lui prega libera tutti questi spazi della sua plancia dai lavoratori. Ecco qua. E rimischia le carte. Qualora non ci fossero lavoratori da questo lato ottiene un lavoratore e rimischia le carte. Quindi ora, magicamente, rimischierà le carte. Ok. Perfetto. Io passo perché non ho più lavoratori. lui invece ne ha ancora uno e decide di ingaggiare di nuovo. Non lo può fare e quindi commercia. Non ottiene ovviamente monete e avanza questo segnalino. Io ho già passato. Lui non ha più lavoratori. È la fine del primo round. Quindi si scartano le carte taverna. Nel gioco a più giocatori si scarterebbe solo la carta che si trova in questo spazio e in questo spazio. Ma, anzi questo, perdono, ma in singolo giocatore si scartano tutte e due per farne girare un pochino di più. Questa e questa. Andiamo. Quindi scorrono. Scopriamo le nuove. Magari le giro anche. Ma no, questa è quella che ho scattato. Cosa cavolo sto facendo? Ok. E scopriamo qui le carte cittadino. Ah, la costipatrice. La costipatrice! Quante cacchio di costipatrici ci sono? Truffatore. Carta prod. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, liberiamo la plancia dai lavoratori. Sia quella di Ginko che quella mia. Togliamo i bianchi, togliamo i blu, verdi, rosso, nero. Molto bene. Perfetto, ok. E ora vediamo che cosa ci richiede il re. Il re ci richiede di convertire. E quindi questo finisce a semplificare ancora di più l'azione. La sua azione di convertire. Va bene, va bene. Allora. Scopriamo. Ahia. Oddio. Ok. Prenderemo sicuramente carte del mare. Ok. Molto carina questa. Probabilmente vorrò quella. Perfetto. Vediamo cosa ci riserva questo secondo round. Abbiamo Ivor che ovviamente ce lo siamo portati da prima. Poi abbiamo Guerrier che ci dà 3 di fede. Uno di influenza. Un nero e un rosso. E quando uso l'azione convertire, non pago monete. Vabbè, che adesso non le pagherei comunque. E poi abbiamo Englid Amler. 3 di forza. Quando uso l'azione attaccare, guarda. Senza saper né leggere né scrivere, vado direttamente di questo. Mi piace. Facciamo così. Mettiamo... Questa in cima al mazzo e invece l'Ivor finisce in fondo. Zap. Ok. Molto bene, molto bene. Allora. Ora. Prendiamo un rosso e un verde. Eccole qua. E in più ci scegliamo, senza neanche starci a pensare troppo, questa che mi dà un altro rosso e un altro verde. E' indubbiamente migliore di quella. E due viola. Quindi devo pescare due carte sospettolo. Allora. Abbiamo... Ecco, perfetto. Questa che non mi dà un tubo di niente. Gentilissimo. E questa che mi dà una moneta. Fantastico. Eh? Una meraviglia. Però almeno adesso ho quattro monete e potrei anche decidere di fare questa azione. Ma con questi lavoratori super fighi non ha molto senso. Ora. Gli ho lasciato questa carta con due lavoratori viola. Due criminali. Quindi lui si pesca due carte. E ottiene ovviamente due monete. E niente. Beh, almeno... Queste finiscono qui. Queste due monete lui le rimuove semplicemente. E avanza di due spazi questo segnalino. Ok. Perfetto. Ci siamo. Allora. Vediamo un pochino cosa farò in questo round. Io ho quattro di forza e due di fede. Quindi potrei arrivare a convertire qui. E questo mi dà un punto vittoria ogni due avamposti fatti. E convertire a fine partita se ne faccio cinque. Sono sei punti vittoria. E fare avamposti un'altra cosa sulla quale puntare. Perché sono altri quattro punti vittoria. Non sarebbe male convertire lei. Che mi dà anche un punto di forza. E arriverei ad avere cinque forza. Che mi permette di arrivare qui. Allora io in questo round però quando faccio l'azione di attaccare. Guadagno due monete. Quindi sono anche incentivato a minare un po' di gente. Allora facciamo prima l'azione attaccare. Così otteniamo immediatamente due monete. Grazie al mio paladino. Allora io attualmente ho quattro. E arrivo qui. Ma potrei anche andare ben oltre. E io penso che vorrò attaccare lei questo soldato. Quindi ottengo un punto di influenza. Ecco qua. Fatto danno. Ottengo una provvista. E un lavoratore bianco. Ok. E questo finisce coperto nella mia area di gioco. Benissimo. Vediamo che cosa vuole fare Ginko. Ginko. Ah Ginko vuole costipare. Molto bene. Ma Ginko non ha lavoratore. Perché non gli ho dati. Sono un po' pirla. Allora. Ginko ne prende tre. Più due. Perché siamo nel secondo round. Uno è morto. Nel frattempo. Facciamo così. Ok. E quindi. Volendo fare l'azione costipare. Mettiamo un lavoratore qui. ottiene una carta sospetto che gli dà una moneta. Che rimuoviamola qui. Nella sua terza carta sospetto. Avendo ottenuto la moneta. E avanza. Quello più indietro. In caso di parità. E quello in cima alla pila. Tic. Ok. Benissimo. E lui ha costipato. Ora tocca a me. Allora. Adesso. Io non mi ricordo più che cosa volevo fare. Allora. Io vorrei cercare. Di fare l'azione sviluppare. Perché. Mi riduce. I costi. Ora. Dopo vorrei anche convertire. Cercare di convertire lei. Se io faccio l'azione. Sprecando un viola. No. Cioè così. Se io faccio l'azione sviluppare in questo modo. Che poi mi dà un bianco. Poi riesco comunque a fare l'azione convertire. Perché. Posso proprio ridurre il costo dell'azione convertire. Sì. Quindi facciamo così. Allora. Sviluppiamo. Paghiamo. Tre monone euro. Quattro. Monete. Eccole. No. Non è vero. Sono tre. Sto rubando. Hehehehe. Quattro monete. Mi riduco. Il costo dell'azione convertire. E ottengo. Un lavoratore bianco. E tocca a Ginko. Che. Ordine del re. Ok. Vuole cercare di risolvere. Di risolvere. Anzi. Di risolvere. Di cercare di portarsi avanti. Nel risolvere. L'ordine del re più a destra. Quindi quello di. Convertire. Lui attualmente. Che gioia. Allora. Lui attualmente. Quello che vuole convertire. È. Il primo. Il primo non c'è. Quindi punta a questo. Quello a cui sto puntando io. Però ha bisogno di due. Di fede. E attualmente. Lui di fede. Ha solo uno. Quindi non ce la fa. Quindi non può convertire. E allora ingaggia. E quando ingaggia. Ingaggia questa qui. In questo caso. Quindi fa fuori lui. E. Toglierebbe un suo debito. Ma. Non. Aia. Aiaiaiaiaiai. Non ha debiti. E quando non ha debiti. E li deve scartare. Toglie una moneta dalle tasse. Che è l'ultima. E quindi c'è l'inquisiccione. Ora. Io ho due carte debito. E lui ne ha tre. Benissimo. Quindi. Lui prende un debito. E glielo mettiamo. Qua. E ne scarta. La metà. Per difetto. Quindi ne scarta. Solo una. Ma. Meno male. Mi sono salvato. E rimettiamo. Cinque monete. Nel deposito. Delle tasse. Beh. Mi è andata bene. Dai. Non mi posso lamentare. In effetti. Ok. Quindi ora. Io voglio. Convertire. E volevo convertire lei. Sì. Perché poi verrà. Scartata. Alla fine del round. Avrei voluto fare anche l'azione fortificare. Che non è male. Ma. Posso farla anche dopo. Quindi facciamo così. Utilizziamo. Un bianco. E un viola. A coprire il nero. Devo avere fede. Almeno a due. E ce l'ho a due. Preciso preciso. Quindi lei la converto. E mi prendo. Un punto di forza. Ecco qua. Perfetto. E viene. Qui sotto la mia plancia. E a fine partita. Ottengo un punto vittoria. Per ogni avamposto. Che ho messo qui sul tabellone. Che va anche in combo con questa. Molto bene. Molto bene. Tocca a Ginko. Che ha ancora i suoi tre lavoratori. E fa l'azione. Assolvere. Ora. Lui ha. Influenza zero. La prima azione di assolvere. Richiede zero influenza. Mette i suoi due lavoratori qui. Perfetto. Allora lui che cosa fa? Prende innanzitutto un punto fede. Dopodiché elimina una carta sospetto. Più. Un de. Dove sei? Più un debito. O una carta sospetto. Se non ha un debito. E quindi. Tac. Super combo. Eh che bello. Ah no. Lo ripaga. Ti possa ardere. Quindi è un punto. Maledetto. Benissimo. Io ho un lavoratore. Che. Mi. Conservo. Perché. Non ho. Sì me lo conservo. Per round successivo. Tocca a Ginko. Che ha ancora un lavoratore. E. Farà l'azione. Ordine del re. Che tecnicamente. Sempre quella di convertire. Lui attualmente. Ha due. Questa. Gliel'ho fregata io. Meno male. Non può convertire. Perché non ha abbastanza fede. Quindi la sua azione. È quella di pregare. L'azione di pregare. Essenzialmente. Li fa liberare. Gli spazi. Qui. Sulla plancia. E. Li fa rimischiare il mazzo. Quindi. L'unica cosa. Della verità utile. È rimischiare il mazzo. Per lui. In questo momento. Perché. Non ha comunque altri lavoratori. Per fare azioni. Là. Ecco qua. Perfetto. Quindi. Tendenzialmente. Passiamo tutti e due. Ed è la fine del secondo round. Ed eccoci qui. Il gioco continua. In questo modo. Il rivale. Jinko. Acquisisce le carte favore. Perché potrà utilizzare. Anche gli spazi azione. Che si scoprono. Durante il gioco. E a fine partita. I punti si ottengono. Come in una partita. Con altri giocatori. Con qualche piccola differenza. Ti ricordo. Che se vuoi. Puoi andare a vedere. Il video del mio parere. O il video tutorial. Cliccando in alto. O in descrizione. Ma se sei soddisfatto. Io ti ringrazio. Per aver guardato. Quest'altra puntata. Se hai dubbio domande. Di qualsiasi tipo. Mettile nei commenti. E risponderò appena possibile. Ti ricordo. Che se ti piacciono. I video che faccio. Considera l'idea. Di iscriverti al canale. Di cliccare sulla campanellina. Così ogni volta. Che ne pubblico uno. Ti arriverà una notifica. Io sono Flavio. Il meeple con la camicia. E ci vediamo alla prossima.